I nuovi contenitori sono già in distribuzione, ultima data disponibile il 2 marzo. Scatta infatti il 12, la mini rivoluzione nella raccolta del rifiuto secco a Campo San Martino. Il Comune, in collaborazione con E30 e gestore, punta infatti sulla responsabilità dei cittadini per aumentare la raccolta differenziata e diminuire i rifiuti conferiti nel materiale non riciclabile. Ogni contenitore sarà dotato di un microchip che misura il numero degli svuotamenti, dato fondamentale per stabilire la tariffa. La raccolta del secco diventerà bimensile per tutte le utenze. Anche per umido, carta e vetro, le famiglie dovranno dotarsi dei nuovi contenitori in distribuzione.